Un bando innovativo per la promozione del brand Abruzzo che coinvolge le compagnie aeree e cui finanziamenti sono legati agli effettivi risultati raggiunti in termini di presenze sul territorio. Il programma prevede un investimento di 12 milioni e mezzo di euro in 5 anni ed è rivolto a tutte le compagnie operanti su linee nazionali ed internazionali. A spiegare i particolari, il governatore della regione D'Alfonso, insieme al direttore della saga Ente che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo, Luca Ciarilini. L'appalto è finalizzato all'acquisizione di servizi di promozione e comunicazione attraverso l'utilizzo di social media marketing, promo pubblicità a bordo degli aerei, poggiatesta, cappelliere, video, giornali e altri canali e media. Quattro le azioni previste, per ognuna delle quali dovrà essere presentato uno specifico progetto. Mercati internazionali consolidati, mercati internazionali innovativi, mercati nazionali consolidati e mercati nazionali innovativi. Dai mercati internazionali il numero minimo di contatti previsto deve essere pari a un milione nell'anno della campagna programmata, da quelli nazionali si scende a 300.000 contatti. Il bando finanzia le compagnie con una quota fissa e con una variabile in base al raggiungimento dei risultati. La scadenza del bando è fissata al 23 dicembre. La scadenza del bando è fissata al 23 dicembre.